Ciao amici di Quaci Quaci, io sono Betty e io Roby. Oggi vi prepariamo un contorno, un contorno molto semplice ma stagionale, le cotolette di cavolfiore. Alla ricetta! A dopo! Per le nostre cotolette di cavolfiore ci vuole un cavolfiore di circa un chilo, tre uova, del parmigiano reggiano 80 grammi, del pane grattugiato 300 grammi, del sale e dell'olio. Andiamo alla preparazione passo per passo. Andiamo a sfogliare il nostro cavolfiore, gli togliamo le foglie, togliamo il cuore centrale che è col gambo, che è la parte più dura e incominciamo a sfogliarlo. Lo faremo sempre in piccole parti, per esempio questo è grande, lo tagliamo in quattro. Questo è grande e lo tagliamo. Pezzi che puoi andare. Questi piccolini li lasciamo così, questi piccolini li lasciamo così, i pezzi grandi. Dobbiamo renderli più o meno tutti uguali, della stessa grandezza per la cottura. Ho sfogliato il nostro cavolfiore, i nostri pezzettini li mettiamo in una scuola pasta e andremo a lavarlo delicatamente sotto l'acqua corrente. Ora lavato il nostro cavolfiore, lo andremo a cuocere in una pentola a vapore. Mettiamo in una pentola un o due dita d'acqua, mettiamo il nostro cestello nella vaporire e introduciamo il cavolfiore. Chiudiamo il copetto. Una volta che bolle, li facciamo cuocere per 10-15 minuti. Mi raccomando di non farli cuocere troppo, se no si spaccolano. È una vettura che si cuoce molto velocemente. Li lasciamo un po' al dente perché dopo andremo a finire la nostra cottura al forno. Intanto che il cavolfiore si cuoce, noi andiamo a preparare la linea per l'impanotura. Innanzitutto le uova. Abbiamo detto tre uova. Poi aggiungiamo un po' di sale. Poi aggiungiamo un po' di sale. Poi aggiungiamo il nostro parmigiano. Poi aggiungiamo un po' di sale. Un po' di sale. Un po' di sale. Una rimestata. E ecco qui. Così tende un buon sapore di parmigiano. Dopodiché aspettiamo che sia una cottura al forno. Allora, una cosa, un'altra cosa, bisogna ungere la teglia del forno, qui siamo a posto, per la teglia del forno, della cartola da forno, un po' di olio, un po' sotto e poi andremo a metterlo anche sopra poi al cavofiore, una spennellata per rendere uniforme, ecco qua. Il cavofiore è cotto, ne prendiamo un po' di pezzetti, uno, due, e a tre, li mettiamo, li passiamo nell'uovo e poi li passeremo nel pane lattato come le cotonette. Poi li andremo ad imporre nella nostra tiglia. Dopo 15-20 minuti a 160 a forno ventilato, queste sono le nostre cotolette di cavolfiore. Un contorno che farà felici grandi e piccini. Se vi è piaciuta la nostra ricetta mettete un like oppure iscrivetevi al sito Quocci Quocci di Youtube. Alla prossima ricetta e buon appetito! Ciao!